buongiorno ragazze ciao a tutte ciao a tutti nuovo video vlog e che diccio come state spero bene allora si premetto che sono ancora in pigiama ma tra poco mi vesto promesso allora innanzitutto volevo dirvi che finalmente sto cominciando a fare altri video se lo sono tico sempre così ma è perché questa volta non ce l'ho bisogna accendere perché tanto si o si vede o non si vede per niente si vede male o si vede a scatti quindi ho deciso semplicemente di come dire di lasciarla spenta per oggi almeno che non torna mia o me la vuole accesa ma vabbè adesso chiede soltanto per cominciare non vedo sono 9 49 no può essere sì le 9 49 sono va bene dai ora faccio il mio lettino il mio lettone anzi e poi ovviamente mi vesto ok e niente come qua questo è un po' posto per riuscire mi avete già visto un po' cuccate tutto quanto mi ho fatto già le soffice perché così non era possibile guardarne e niente come qua ho già fatto il letto l'ho fatto la scuola buona e niente mi ha fatto l'assolta coda questa volta perché non potevo che vi sarebbero quelli scelti vabbè lasciatemelo passare questa volta e nulla manca il colettore perché sono veramente orribile così però se sinceramente mi ha scelto anche senza colettore non so non ne ho idea oddio non sono molto molto di qua non si sto sconfiando piano piano diciamo che si ha preso qualche placchetta ancora in gola però mi sto abbastanza curando diciamoci la verità sì e niente adesso tra poco esco vado alla spesa e questo video lo vedrete stasera se non riesco a caricarlo perché la mia linea non è il massimo già ho avuto come direte questo cappotto il cappotto è uno che ho preso a maddalena e c'è anche la cintura che non la sto usando perché mi strizza lo stomaco come io nel caso e niente la mascherina qua ma non l'ho uso perché tanto vabbè lo potevo metterlo in tasca andando e niente ho cambiato borsa non è più questa qui ma è un'altra perché non è più essas Oh man, niente. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Grazie a tutti. 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 ovvero, e a tutti. 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 a tutti. e a tutti. a tutti. a tutti. e a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. quindi, è bello, e niente. a tutti. a tutti. e a tutti. , a tutti. a tutti.